buongiorno amici bentornati sul canale oggi andremo a fare forse un video con il drone tira un po di vento ma vediamo cosa riusciamo a fare dunque l'intenzione è andare a montecatrini dove ci sono le lopoldine tamerici la torretta tutto abbandonato perché giustamente lo spreco è all'ordine del giorno se riesco alzare il drone fare un video senza rischiare di perderlo bene se no quando torno si farà il solito video a cazzo di cane come faccio di solito allora amici aggiornamento sono arrivato solo che ho lasciato il microfono in macchina e che tanto non mi serve comunque guardate che spettacolo si intravede di già un posto dove teoricamente forse riesco a volare che qui c'è sugli arberi cedepini erano 80 anni o 100 e sono qui comunque vediamo cosa si riesce a fare musica Grazie a tutti. 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 Qui c'è la torretta, locale storico del Monte Catini che ormai è in decadenza totale. È un vero peccato perché ci si faceva delle serate disumane. Dunque, sono stato con gentilezza, mi è da ride, sono stato invitato a smettere di registrare, ma il drone l'avevo alto, quindi ho detto ormai finisco. Nel frattempo ho scattato anche qualche foto. Quando sono decollato c'era scritto sul display zona carabinieri, qualcosa del genere, quindi ho rischiato. Non so cos'è venuto fuori perché c'è tantissima gente. Vi vediamoci la mattina presto, quando viene sul sole. Ora vediamo in questi giorni. Il video l'ho fatto, non so cos'è venuto fuori, ora si va alla maison, mi schianto un caffèino, posso montare il video. Vai! E anche questa è andata.